...calciando al rigore, non ha guardato al portiere, ha calciato forte, diciamo che è stato anche... ...chi fosse proprio... Attenzione De Zerbi, dentro! La respinta da parte di Valdes, che finale di partita, Dallabona! Mamma mia! Un gol pazzesco di Dallabona! 4-2! Un gol meraviglioso del Napoli! Che partita San Paolo, che Serie B amici! Dallabona ce l'ha, ce l'ha nel suo DNA. Lui non ci ha pensato due volte, ha visto scendere questa palla e di sinistro ha calciato al volo.